Stiamo attenti a fare la raccolta differenziata. Cominiamo macchine elettriche, mettiamo i pannelli fotovoltaici sopra i nostri tetti e poi, ad un passo da noi, sfrecciano aerei e canarmati, pieni di armi, pronti a distruggere tutto. Le drammatiche immagini di un anno di guerra, le immagini che fino al 24 febbraio 2022 non avremmo mai pensato di rivedere in Europa. Una guerra, quella lanciata dalla Russia, che avrebbe dovuto essere lampo e invece a un anno di distanza ancora si combatte. Una guerra che è costata la vita centinaia di migliaia di persone e nonostante tutto il popolo ucraino